Pordenone ospita la seconda edizione di TEDx, trattando il tema della mobilità in senso ampio. Jessica Parutto illustra le finalità e le modalità dell'evento. Stiamo parlando di un nuovo format che è arrivato a Pordenone, questa è la nostra seconda edizione, quindi sabato 14 maggio saremo al capitol Pordenone e tratteremo il tema della mobilità. Il motto infatti di TED è quello di EIDEM che meritano di essere diffuse, infatti per questo la mobilità verrà trattata da 10 speaker più una performance artistica che si alterneranno sul classico bollino rosso del TEDx Pordenone. Significa che saranno appunto dei talk della durata massima di 12 minuti e appunto tratteranno la mobilità da punti di vista differenti. Andremo ad analizzare e sentire un po' assieme quali saranno i nuovi mezzi del futuro, quale sarà la logistica e la vita nello spazio, quale sarà un viaggio ad esempio di un regista che è stato fatto, dei percorsi riabilitativi di persone che attualmente sono dei malati psichiatrici e quindi hanno una nuova possibilità all'interno della nostra società. Vedremo i nuovi mezzi di comunicazione, le nuove vie di comunicazione e anche dalla parte di ricerca e sviluppo, dalla parte poi dell'HR, quindi quali sono le nuove possibilità di carriera, come ci stiamo muovendo e tanti altri speech che appunto ci saranno. Per l'assessore alla cultura Alberto Parigi è un'iniziativa stimolante che contribuisce a far crescere la città e che si rivolge in particolare ai giovani. Il Comune sostiene ed è partner di TEDx perché ritiene che l'apporto di idee, di testimonianze, di esperienze di questa iniziativa sia fondamentale. È fondamentale per far crescere la città in termini di nuove idee e di cultura, ma è fondamentale anche per le esperienze che porta di professionisti, consulenti, ricercatori. Il tema scelto è assolutamente centrale, è quello della mobilità che si può declinare in mille modi, non solo mobilità come trasporti, ma anche per esempio mobilità come nuove frontiere dello spazio, mobilità come migrazione, mobilità come fuga dei cervelli. Insomma un incubatore di idee e di riflessioni che penso debba portare alla sua attenzione soprattutto i giovani che sono in cerca di una loro strada.